I tuoi pareggi e solo due sconfitte, cioè questo significa che il Maccabio è stata una squadra costruita per vincere tutto. La stagione era iniziata un po' in salita perché abbiamo cambiato tanto, quindi avevamo bisogno di tempo per ammazzare i vuoi. Ci siamo riusciti soprattutto nella seconda parte della stagione e dopo il pareggio che abbiamo fatto... ...questa è una squadra che negli ultimi due anni ha fatto quasi una cosa eccezionale e queste due doppie, l'unica serata è il culmine, però sia chiaro non ci fermiamo. Le prossime due partite ne vogliamo fare 50 punti in campione. Però poi non ci sarà Alba Adriatica perché non andrete, ci sarà però Serbia. Ci sarà Serbia, ci siamo andati lo scorso anno, ci torneremo e proveremo a far meglio. Far meglio in confatto all'altro anno vuol dire vincere. Vuol dire vincere. Grazie Misteri, complimenti davvero e in bocca al lupo a questo punto per le fasi finali del campionato per i 50 punti come lei ci ha appena detto e in bocca al lupo anche per tutti i successi che verranno. Grazie a voi e complimenti per l'organizzazione. Bravo, 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 bravo. Non so se siamo sempre in diretta, cari amici di YouTube, mi sa di sì, ma mandiamo un attimo le immagini su quello che sta succedendo, sulla premiazione. Guardate questi ragazzi come sono contenti, come volevano, come hanno insistito per vincere questa Coppa. Un percorso netto, tutte vittorie, tanti colfatti, pochi subiti, costruita per vincere, come abbiamo detto anche in fase di intervista. La premiazione, tutte le volte, vari riconoscimenti, ci sono anche gli Oscar chiaramente da assegnare, uno di questi, tanti di questi sono stati assegnati ai giocatori del Maccabi. C'è Edoardo Maroder, che ha vinto il titolo di miglior centrocampista del circuito d'elite, così come Federico Ascoli, mister, miglior allenatore, panchina d'oro. Per lui non ce l'ha fatto a Spagnoletto vincere il titolo di miglior difensore, perché è andato all'avversario, a un altro centrale, a un altro capitano, vale a dire minuti. Non è per mangiare, 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 non è per mangiare. Saloga trega c'è, saloga trega c'è, saloga trega c'è.